Un uomo che aspettava qualcosa, un qualcosa che non erano pennette col sugo al tonne olive. Sguardi perforanti. Era ovvio che ciò che volevano non erano le pennette, ma per il momento mangiavano le pennette perché erano timidi. Pazzedie rumorose. Rumori che rompono il ghiaccio. Non mangi più? Cosa mai avrà voluto dire con quel non mangi più? Perché non per esempio vuoi più pennette? Con un affascinante Lorenzo Mantelli. E il premio cinghiale come miglioratore in bianchino poco protagonista per Passavo Matteo Innocenzio. La Daniele Rompietti Production è li vieta di presentarvi. GAY PARTY GAY PARTY GAY PARTY GAY PARTY GAY PARTY GAY PARTY Grazie a tutti.